babbino ho visto babbo natale scendi da lì e poi penso che là fuori non ci sia babbo natale ho detto che ho visto babbo natale fuori va bene va bene vengo giustizia santa salve a tutti i ragazzi benvenuti alla fine del mio video praticamente questo qua è il mio primo doppiaggio che faccio ufficialmente vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace di iscrivervi al canale e di iscrivervi sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi